Il Cesena è in un buon momento di forma, è una squadra che rispecchia molto l'allenatore, è una squadra aggressiva che concede poco, se non sbaglio in tre partite ha subito solamente nove calce d'angoli, sei o nove calce d'angoli, quindi vuol dire che è una squadra che difende molto bene, quindi sarà una partita difficile, poi credo che i campionati per vincerli è importante vincere con le piccole, perché sono punti che lasci per strada e poi dopo altrimenti devi giocare agli scontri rettili con l'obbligo di vincerli, invece noi agli scontri rettili bisogna cercare di arrivarci sempre in una posizione di forza. Si può giocare a tre, a cinque, a quattro, l'importante è avere un atteggiamento propositivo e cercare di giocare in un certo modo. Sabato, credo che per diverso tempo la partita abbiamo quasi giocato a quattro, un quattro un po' anomalo, però è quasi un quattro. In questo momento qui andare a fare dei stravolgimenti non serve praticamente a niente, potrebbe creare dei danni alla squadra, anche perché non abbiamo tempo di lavorare e giochiamo una volta ogni tre giorni. Possiamo fare sicuramente degli accorgimenti come è stata la partita di sabato. Vidal si è allenato con la squadra praticamente da tre, quattro giorni, non è al cento per cento, non è una condizione ottimale, però ha bisogno di mettere dentro un minutaggio. Morata ha lo stesso discorso, so che piacerebbe anche a me vederlo a 90 minuti in campo perché è un giocatore di grandi qualità. È rientrato con la squadra il 13 con l'Udinese, veniva da un mese di quasi inattività, non ha minutaggio nelle gambe in amichevole, a parte i 45 minuti che abbiamo fatto l'altro giorno in questa amichevole. Quindi c'è bisogno piano piano di inserirlo. In una squadra non si può cambiare 6-7 giocatori tutti in un colpo, quindi bisogna avere sempre equilibrio, perché soprattutto siamo all'inizio e quindi non c'è gente che è in grossa fatica e che ha bisogno di recuperare. Domani le scelte verranno fatte in base alla partita di domani, che secondo me è una partita molto importante e difficile allo stesso tempo, perché vincere le partite non è mai semplice, soprattutto in Italia quando giochi una volta ogni tre giorni.